La storia di queste poltrone è una storia importante. Quando sognavo questo teatro me lo immaginavo proprio così, con le poltrone rosse di velluto, però non è stato facile trovarle. Ho fatto una grande ricerca su internet e poi dopo varie ricerche finalmente ho trovato il signor Franco che mi ha proposto queste poltrone tramite una foto e subito mi sono piaciute tantissimo e quindi insomma sono andata insieme alla mia famiglia a vederle di persona in Toscana dove erano. Devo dire che me ne sono innamorata immediatamente e quindi le abbiamo trasportate dalla Toscana a Milano. Anzi tra l'altro il signor Franco mi ha detto che queste poltrone prima erano state al teatro degli arcinvolti, sempre a Milano, poi sono state da lui in Toscana e poi adesso sono tornate qui in Factory 32 a Milano. Quindi insomma è una storia un po' speciale. Tra l'altro queste poltrone erano tutte da montare e quindi le abbiamo montate una a una insieme alla mia famiglia con una passione, un impegno, una dedizione veramente enormi. Quindi quest'anno ho pensato di dedicare a tutti coloro che vorranno contribuire nella ripartenza di Factory 32 la personalizzazione di queste poltrone. Quindi chi vorrà potrà personalizzare ognuna di queste col proprio nome e cognome in modo che quando verrete a vedere gli spettacoli avrete la vostra poltrona personalizzata. Vuoi partecipare anche tu alla rinascita e alla ripartenza di Factory 32?